salve benvenuti sul canale pratiche sartoriali alla moda vi ricordiamo che i nostri video escono tre volte a settimana oggi con voi sono io olga e con noi c'è anche inga insieme vi presenteremo due nuovi capi che abbiamo realizzato per inga iniziamo noi con la giacca all'inizio insieme con voi natalia ha presentato tutti i passi per la realizzazione costruzione del cartamodello taglio prova ed è anche spiegato alcuni momenti ai quali prestare attenzione ed ecco qui davanti a noi vediamo il risultato di questo lavoro guardate che bel capo e che linea elegante inizialmente ho pensato che sarebbe stata la solita giacca d'ufficio scusa mi inga ma quando mi è stato detto una giacca di color grigio subito pensato abbiamo già fatto tante giacche classiche gli operatori non saranno contenti per il colore diranno che il colore senza contrasto che in video è tutto grigio e monotono invece oggi quando ho visto la giacca pronta sono rimasta molto contenta e non vedo l'ora di fare la recensione l'intero look è molto elegante e classico ma nel frattempo particolare la giacca è doppio petto si chiude con un bottone in vita le altre sono per decorazione poi abbiamo il collo classico da giacca per richiamare la giacca a doppio petto abbiamo applicato i bottoni in questo modo la chiusura in realtà è solo con il bottone alla vita questo poi abbiamo il bordo del centro davanti che parte in diagonale dalla linea vita verso il basso e forma questo angolino con l'altro lato guardate quanto si abbellisce la giacca con questo elemento dal bordo in diagonale tutte le linee gli angoli sono molto belli poi abbiamo anche il fianchietto e la tasca filetto con la patta la patta può essere inserita nella tasca così come vedete oppure fuori abbiamo due varianti è molto bello la manica e la manica classica che tutti conosciamo bene è stata fatta con la larghezza preferita della nostra cliente così si sente comoda non è né largo né stretto si la manica è molto molto comoda confermo posso fare tutti i movimenti che voglio all'inizio pensavo una giacca un po più sportiva ma dopo ho capito che mi serve veramente un look un po più serio ora vediamo il dietro abbiamo la cucitura sul centro dietro la pen spalla sono trasferite si trovano sotto il collo le pense in vita invece sono parzialmente trasferite nelle cuciture del fianchietto e nel centro abbiamo anche lasciato una parte per dare questa morbidezza il punto vita evidenziato poi grazie al centurino inga c'è chiesto di fare il centurino con questo tipo di fibra perché la trova più comoda ma in realtà a questa giacca starebbe bene anche una centura in pelle di un colore in contrasto ad esempio color marrone abbinato ad una gona dello stesso colore in realtà si possono creare diversi look e questo stagna la nostra fantasia a questo punto c'è da dire che anche la sua parte d'effetto lo fa anche il tessuto è un cashmere molto bello e molto morbido e con questa fantasia è anche molto versatile da abbinare con goni pantaloni di vari colori cioè tra il blu marrone grigio nero insomma si può scegliere tante cose essendo un tessuto molto morbido abbiamo deciso di rinforzarlo interamente ma con una teletta molto leggera tipo 20 grammi al metro per non perdere la morbidezza ma far sì che aiuti a tenere la forma e abbiamo ottenuto questo bellissimo capo che è morbido e anche una bella forma molto piacevole da indossare ma non è ingessato molto versatile da mettere in varie occasioni per andare al lavoro per una passeggiata eccetera insomma si possono creare diversi look si potrebbe abbinare una gona a un vestito di linea semplice anche con i jeans perché no è davvero un capo universale noi abbiamo fatto su richiesta di inga questa gona di cashmere nero è stata realizzata seguendo interamente il metodo di costruzione e realizzazione della gona tubino per la quale esiste anche il corso sul nostro sito è proprio quella gona lì del corso vedete come è che ha creato lei il look di oggi è un po più da ufficio un po più formale ma volendo si può sbisarire e fare anche un look più sportivo penso che avete già capito che è una giacca universale quindi guardate la gona come si presenta come vedete è la stessa gona del corso gona inga se vuoi dirci qualcosa prima di andare a vedere i cap al tavolo di lavoro prego sei libera di dire vorrei prima di tutto ringraziare natalia insieme a lei abbiamo pensato al modello e poi ha fatto la modellistica e la realizzazione per me è stato molto interessante seguire tutto il processo della creazione di questa giacca inizialmente pensavamo di fare un capo sportivo ma alla fine abbiamo davanti un capo sia sportivo che elegante dipende da come lo indossi penso che succede a tutti di iniziare con un'idea e poi nel processo del lavoro cambiare l'importante è fare pratica fare tanti capi avere sempre una cosa nuova da indossare ora possiamo salutare mia sorella e continuare a vedere i capi in dettaglio sul tavolo di lavoro perché da indossate le avete già visto come si presentano e lei come vedete dalla sua faccia è molto soddisfatta e felice del risultato finale quindi non fermatevi mai createvi nuovi look freschi sempre da indossare nel vostro guardaroba inga ti saluto a presto ci vediamo alla prossima ecco qui la gona e la giacca iniziamo noi con la gona abbiamo già detto che il tessuto è un 100% cashmere è molto morbido vedete che capi si realizzano con il cashmere davvero belli l'importante è posizionare i dettagli del cartamodello tutti nella stessa direzione di solito il cashmere ha questi peli che vanno verso il basso prestate molto attenzione a questo in generale tutti i capi realizzati in cashmere sono molto piacevoli da indossare che di solito rimangono allungono i nostri armadi e si mettono spesso questa gona in particolare è stata cucita da tatiana ivanovna che di solito lavora con me per il canale di pratiche sartoriale alla moda mamma è la classica gona tubino con lo spacco abbiamo una cucitura sul centro dietro è importante suddividere bene le pense in vita sia sul davanti che sul dietro ecco lo spacco nel corso è spiegato molto bene come realizzare uno spacco come questo vedete la gona si chiude con una cerniera invisibile nella cucitura dietro poi c'è il cinturino con un asola e bottoncino ecco vedete vedete come si presenta il bordo interno del cinturino rifinito con una striscia della fodera e la fodera segue esattamente la forma della gona con le pens e le cuciture tutto questo troverete nel nostro corso adesso posso mettere da parte la gona e continuiamo con la giacca mentre facevamo la recensione con inga ho visto un paio di momenti molto interessanti sinceramente alla giacca è così morbida e bella che anch'io ne voglio una uguale mi fa proprio voglia di averne una per quanto riguarda il tessuto è un tessuto adatto anche ad altri modelli non solo giacche andrebbe benissimo anche per un capo sportivo una felpa la parte superiore della tutta in tal caso non avremo rinforzato ma avremo solo foderato adesso è molto di moda abbinare con i jeans una maletta sotto usate l'immaginazione prendete spunto perché veramente si possono creare diversi diversi look guardate che linee belle che ha potete fare tutto questo con le vostre mani la linea di questa giacca è fenomenale una parte della pensino è stata trasferita sotto il river ed è praticamente nascosta ora ve la faccio vedere guardate qui questa è una parte della pensino avete già visto come si fa l'altra parte invece trasferita nel fianco ma essendo rimasta praticamente a metà della pensa iniziale in questa zona qui come vedete tutto è bello liscio senza ingrossamento praticamente siamo riusciti ad avere l'effetto due in uno ci sono le pens che danno la certezza di una bella forma nella zona del seno e nel frattempo non creare un accumulo di tessuto è molto molto interessante questa soluzione soprattutto perché al seno molto abbondante tenete presente ecco il bordo davanti l'asola parte dalla linea diagonale verso il fondo della giacca che unita alla linea dell'altro lato formano questo bel incrocio davanti se non ci fosse questo taglio il capo sarebbe stato un'altra cosa una semplice linea in grado di cambiare tutto l'intero look in realtà ci siamo spostate molto poco dalla giacca classica come vedete il risultato è una giacca completamente diversa messi insieme i vari elementi e danno l'idea di una giacca sportivo elegante come vedete c'è il cinturino ci sono i passanti insomma il taglio dal diagonale non abbiamo fatto le spacchi alle maniche e tutti questi piccoli dettagli in semi hanno contribuito ad arrivare a un capo diverso dalla giacca classica che avete visto anche nel nostro corso la manica è abbastanza larga comoda e confortevole con la stessa logica non abbiamo fatto uno spacco anche sul centro dietro e vi assicuro perché chi cuce da poco ma anche per chi lo fa da messiere da anni questo è davvero un grande risparmio di tempo perché per fare il spacco ci vuole un pochino di tempo ma non perché è difficile ma perché è minuzioso nel suo lavoro vi raccomando alla prova cercate di mettere bene gli spili e di indossare l'intimo che indosserete con il capo che state provando perché davvero tutto cambia a volte nella fretta uno non sta tanto attento a questi dettagli anche noi a volte nella fretta quando facciamo le riprese non facciamo tutto alla perfezione quindi è importantissimo decidere l'intimo che si indosserà con quel capo perché l'intimo può cambiare tutto in ogni caso vi informiamo sempre quando abbiamo riportato modifiche o correzioni in questo caso non abbiamo fatto nulla di diverso di quello che avete visto durante i video e anche durante la prova il capo non è stirato non si presenta nella sua versione migliore con il tempo e con l'esperienza non riesco a capire se va bene l'importante è sempre controllare tutto rispettare il dritto filo segnare la linea del centro assicurarsi che le linee sono belle e simmetriche e il risultato arriva l'importante che voi seguiate le lezioni e i passaggi che vi insegniamo a fare e anche con la tasca con il filetto e la pata la patina si può mettere sia dentro che fuori cioè uno decide come vuole avere l'effetto sulla giacca vediamo il dietro poi vedete può stare sia dentro che fuori ora giriamo sul dietro la linea è classica la pens vita sono state parzialmente trasferite nel fianchietto e nella cucitura centrale la parte rimanente delle pens è stata lasciata libera ed è raccolta dal cinturino se avessimo fatto le pens come dal cartamodello di giacca classica il cinturino non avrebbe avuto alcun senso e anche il risultato sarebbe stato quello di una giacca classica sfiancata per questo motivo abbiamo deciso di lasciare liberi una parte delle pens che poi si raccolgono con il cinturino in questo modo il cinturino ha un doppio senso sia decorativo che funzionale ecco invece come si presentano le pens palla sotto il colo la manica e la manica a due pezzi senza gli spacchi è molto semplice ora vediamo il capo da rovescio è foderato interamente con una fodera di setta e come al solito i dettagli della fodera ripetano esattamente i dettagli del tessuto principale la paramantura è come quella per giacca doppio petto e più larga della solita paramantura tutto il resto è come nella giacca classica in fondo abbiamo una piccola piega della fodera per assicurarci la libertà nei movimenti cosicché poi il tessuto dal dritto non tira assolutamente sempre per evitare che il tessuto si deformi dopo il lavaggio e dopo il lavasecco dovete sempre stirare a vapore altissimo bene bene il tessuto prima di iniziare a tagliare analizziamo tutto con attenzione in modo che dopo non ci siano delle sorprese spiacevoli fatelo anche voi mi raccomando non dimenticate perché è molto importante l'ultima cosa vi faccio vedere che tutti i bottoni hanno un sottobottoncino in questo modo è più difficile che il bottone non si scuce non tira il tessuto e non rovina e di conseguenza il capo ha una vita più lunga a mio avviso il capo è riuscito molto fatto molto bene natale e margarita hanno fatto un lavoro veramente ottimo e voi invece avete l'opportunità di vedere questo capo e di imparare come potete farlo oppure di prendere ispirazione e fare qualcosa di nuovo e bello per voi con questo vi saluto mettete like seguiti i nostri canali youtube e instagram commentate fateci delle domande comprate i nostri corsi con voi siamo stati noi olga mia sorella inga e tutto il nostro team a presto alla prossima con tante altre novità